Entra nel vivo la stagione 2024-2025 dell'FC Matera in serie D. Nello store in piazza Molino la presentazione della prima e della seconda maglia. La maglia è una maglia riuscita molto molto bene, a me piace molto e piacerà sicuramente molto ai nostri tifosi e ai nostri ragazzi. Il tessuto è il tessuto di ultima generazione, con il logo rilievo abbiamo sviluppato un ottimo prodotto. Ci tengo perché sono stato accolto in maniera esemplare, quindi da parte mia devo ripagare questa città e questi tifosi nel miglior modo possibile. Partiamo dalla maglia, dalle tute, dal merchandising, dallo store che lo abbiamo reso attivo e vivo per far sì che noi riusciamo a portare più gente possibile allo Stato. Intanto riflettori puntati sulla prossima gara al 21 settembre domenica alle ore 16 contro la Fidelis Andria. Il sogno sarebbe vincere anche domenica per proseguire il filone positivo. Vedremo un attimo il mister Ciullo che cosa ci regalerà, i ragazzi in campo che cosa ci regaleranno. I tifosi li invitiamo a venire a vedere il Matera non solo con le grandi partite ma anche con le partite un po' meno di cartello. L'importante è che siano presenti moltissime e noi faremo del tutto per portarne sempre di più allo Stato.